Diminuiscono i nuovi positivi, ma cresce la curva dei contagi da coronavirus in Campania. Il Covid ha fatto registrare 48 positivi su 1.761 tamponi molecolari esaminati. In percentuale significa che è positivo il 2,72% dei test, un punto percentuale in più di ieri, quando l'indice di contagio era l'1,60. Di questi nuovi contagiati, 32 sono asintomatici e 16 presentano sintomi di un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi. In Irpinia l'Asla ha comunicato che su 310 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 9 persone, una residente del comune di Altavilla, quattro residenti a Mercogliano e quattro a Montemiletto. Intanto però a destare preoccupazione in Campania continua ad essere la variante Delta. Quattro nuove varianti virali Delta infatti sono state individuate a Napoli negli ultimi giorni, tutte registrate su G-Side, la banca dati internazionale che raccoglie tutti i sequenziamenti virali del coronavirus effettuati in ogni parte del mondo. In Campania abbiamo dei focolai di variante Delta e dobbiamo essere estremamente preoccupati, lo ha detto il presidente della regione Vincenzo De Luca, ricordando che la Campania è la regione che fa più sequenziamento per quanto riguarda i positivi. De Luca ha citato i dati provenienti alla Gran Bretagna, dove quasi tutta la popolazione ha una sola dose e dove hanno avuto 14.000 contagi nelle scuole elementari. Questi dati ci devono preoccupare, ha detto. Io credo che noi dobbiamo puntare ad aprire tutto, ad aprirci all'economia e alla vita, ma ha sottolineato De Luca, dobbiamo sapere che possiamo aprirci solo se siamo responsabili. Grazie. Grazie. Grazie.